buongiorno a tutti voi e bentornati nel nostro canale su youtube in questo video vedremo un menisco negativo detto anche menisco divergente ecco la costruzione del menisco il menisco divergente è una lente che rimpicciolisce e la parte centrale è più piccola e meno spessa rispetto alla parte esterna quindi per riconoscere il menisco divergente dobbiamo vedere toccare la parte centrale e vedremo che è meno spessa rispetto ai bordi nella costruzione del menisco vediamo anche che il raggio esterno della superficie esterna è maggiore rispetto a quello interno abbiamo appunto la regola della costruzione del menisco grazie per averci seguito e vi aspettiamo in una prossima occasione grazie a voi grazie a voi